Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Purtroppo siamo dovuti tornare a questa presenza in biblioteca. E questo per difenderci dai contagi del Covid. Questo ci insegna pure che dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle autorità, sia le autorità politiche che le autorità sanitarie, per difenderci di questa pandemia. Offriamo al Signore questa distanza fra noi per il bene di tutti. E pensiamo, pensiamo tanto agli ammalati, a coloro che entrano già come scarti. Pensiamo ai medici, agli infermieri, le infermiere, ai volontari, a tanta gente che lavora con gli ammalati in questo momento, che rischiano la vita, ma lo fanno per amore, la sua vocazione, per amore del prossimo. Preghiamo per loro. Grazie. Durante la sua vita pubblica, Gesù fa costantemente ricorso alla forza della preghiera. I Vangeli ce lo mostrano quando si ritira in luoghi apartati a pregare. Si tratta di osservazioni sobri e discrete che lasciano solo immaginare quei dialoghi oranti. Essi testimoniano però chiaramente che anche nei momenti di maggiore dedizione ai poveri e ai malati, Gesù non tralasciava mai il suo dialogo intimo con il Padre. Quanto più era immerso nei bisogni della gente, tanto più sentiva la necessità di ripossare nella comunione trinitaria, di tornare col Padre e lo Spirito. Nella vita di Gesù c'è dunque un secreto, nascosto agli occhi umani, che rappresenta il fulcro di tutto. La preghiera di Gesù è una realtà misteriosa, di cui intuiamo solo qualcosa, ma che permette di leggere nella giusta prospettiva l'intera Sua missione. In quelle ore solitarie, prima dall'alba o della notte, Gesù si immerce nella intimità Sua con il Padre, vale a dire nell'amore di cui ogni anima ha sette, e quello che emerge fin dai primi giorni dal suo ministero pubblico. Un sabato, per esempio, la cittadina di Cafarnao si trasforma in un ospedale da campo. Dopo il tramonto del sole portano a Gesù tutti i malati e Lui li guarisce. Però, prima dell'alba, Gesù scompare, si ritira in un luogo solitario e prega. Simone e gli altri lo cercano, e quando lo trovano gli dicono, tutti ti cercano. Cosa risponde Gesù? Devo andare a predicare negli altri villaggi, per questo sono venuto. Sempre Gesù è un po' oltre. Oltre nella preghiera con il Padre, oltre in altri villaggi, altri orizzonti, per andare a predicare, altri popoli. E la preghiera è il timone che guida la rota di Gesù. A dettare le tappe della Sua missione non sono i successi, non è il consenso, non è quella frase seducente, tutti ti cercano. A tracciare il cammino di Gesù è la via meno comoda, che però obbedisce all'ispirazione del Padre, che Gesù ascolta e accoglie nella Sua preghiera solitaria. Il Catechismo afferma, quando Gesù prega, già ci insegna a pregare. Perciò, dall'esempio di Gesù, possiamo ricavare alcune caratteristiche della preghiera cristiana. Anzitutto, essa, la preghiera cristiana, possiede un primato. È il primo desiderio della giornata, qualcosa che si pratica all'alba, prima che il mondo si risvegli. Essa restituisce un'anima a ciò che, altrimenti, resterebbe senza respiro. Un giorno vissuto senza preghiera rischia di trasformarsi in un'esperienza fastidiosa o noiosa. Tutto quello che ci capita potrebbe per noi volgersi in un mal sopportato e cieco destino. Gesù, invece, educa l'obbedienza alla realtà e dunque all'ascolto. La preghiera è, anzitutto, ascolto e incontro con Dio. I problemi di tutti i giorni, allora, non diventano ostacoli, ma appelli di Dio stesso ad ascoltare e incontrare chi ci sta di fronte. Le prove della vita si mutano così in occasioni per crescere nella fede e della carità. Il cammino quotidiano, comprese le fatiche, acquista la prospettiva di una vocazione. La preghiera ha il potere di trasformare in bene ciò che nella vita sarebbe altrimenti una condanna. La preghiera ha il potere di aprire un orizzonte grande alla mente e di allargare il cuore. In secondo luogo, la preghiera è un'arte da praticare con insistenza. Gesù stesso ci dice bussate, bussate, bussate. Tutti siamo capaci di preghiere episodiche, che nascono dall'emozione di un momento, ma Gesù ci educa a un altro tipo di preghiera, quella che conosce una disciplina, un esercizio e viene assunta entro una regola di vita. Una preghiera perseverante produce una trasformazione progressiva, rende forti nei periodi di tribolazione, dono la grazia di essere sostenuti da colui che ci ama e ci protegge sempre. Un'altra caratteristica della preghiera di Gesù è la solitudine. Chi prega non evade dal mondo, ma predilige i luoghi deserti. Là, nel silenzio, possono emergere tante voci che nascondiamo nell'intimo. I desideri più rimossi, la verità che ci ostiniamo a soffocare, e così via. E soprattutto nel silenzio parla Dio. Ogni persona ha bisogno di uno spazio per se stessa, dove coltivare la propria vita interiore, dove le azioni ritrovano un senso. Senza vita interiore diventiamo superficiali. agitati, ansiosi. L'ansietà, come ci fa male? Per questo dobbiamo andare alla preghiera. Senza vita interiore sfuggiamo dalla realtà, e anche sfuggiamo da noi stessi. Siamo uomini e donne in fuga sempre. Infine, la preghiera di Gesù è il luogo dove si percepisce che tutto viene da Dio e a Lui ritorna. A volte noi, esseri umani, ci crediamo padroni di tutto, oppure, al contrario, perdiamo ogni stima di noi stessi. Andiamo da una parte all'altra, no? La preghiera ci aiuta a ritrovare la giusta dimensione nella relazione con Dio e Nostro Padre e con tutto il creato. E la preghiera di Gesù, infine, è abbandonarsi nelle mani del Padre. Come Gesù, nell'orto degli olivi, in quell'angoscia. Padre, se è possibile che questo passi, ma si faccia la Tua volontà, l'abbandono, nelle mani del Padre. È bello quando noi stiamo un po' agitati, preoccupati, e andiamo alla preghiera, e lo Spirito Santo ci trasforma da dentro e ci porta a questo abbandono, nelle mani del Padre. Padre, se faccia la Tua volontà, cari fratelli e sorelle, riscopriamo nel Vangelo Gesù Cristo come Maestro di preghiera e mettiamoci alla Sua scuola. Vi assicuro che troveremo la gioia e la pace. Grazie.